Ciao amici! Ciao a tutti! Benvenuti nella famiglia delle suore di San Gaetano! Ehi ragazzi, che ne dite? Mandiamo un bacio a tutti? Sì! Dai su! Il bacio sapete che cos'è? E vuol dire vi voglio bene! E vuol dire anche soffio dello spirito! E noi vogliamo che questo soffio vada su tutta l'umanità! Ecco, allora tu sei? Anna Maria! Emanuele! Io sono Angela, la mamma dei bambini! A tutti! Ciao!